Allora, il Sindaco ci ha presentato questa sera la sua giunta, il mercato delle vacche è finito per ora e la giunta che abbiamo davanti è una giunta raffazzonata, senza visione e basata su interessi personalistici. Evidentemente la dichiarazione del Sindaco durante la campagna elettorale di non voler fare il mercato delle vacche non era una dichiarazione di principio, era solo come a dire che non era quello il momento giusto, solo una questione di tempo e in questi ultimi giorni infatti abbiamo assistito al toto assessorato sulla base di richieste di tutti e tutte, con il Sindaco in mezzo pronto ad assecondare ogni richiesta. Tra l'altro ci apprestiamo a votare una giunta dove le competenze non sono state ancora segnate perché la lotta continua. Il Sindaco più volte ha ripetuto e anche questa sera l'ha fatto che una cosa è la campagna elettorale e un'altra è governare. Peccato che i cittadini votino anche sulla base di un programma elettorale, dando fiducia ai propri rappresentanti che sono chiamati a rispettare tale impegno e a portare avanti il proprio programma, altrimenti la politica dà di sé quell'immagine che siamo abituati ad avere davanti agli occhi, un'immagine che spiana, che ha spianato la strada alla disillusione politica. Mentre la politica deve fare di tutto per recuperare la sua rappresentatività, altrimenti continueremo a vedere crescere i tassi di astensionismo e i partiti continueranno a lamentarsi, come si fa alla fine di ogni campagna elettorale all'esito elettorale, ma non verrà intrapresa nessuna misura per combatterla, per dare credibilità e senso alla politica, per comunicare in modo chiaro e trasparente e breve magari. Invece siamo all'inizio della consigliatura, il momento in cui si dovrebbe partire con grinta e con voglia di fare e noi ci troviamo davanti una giunta che ha al suo interno tutto e il contrario di tutto. Quanto può durare una giunta così? Una giunta ai cui membri sono disposti a sbranarsi per una poltrona e possono ricattare il sindaco in ogni momento. Un governo dove il sindaco di contro diventa il catalizzatore di ogni scaramuccia, dove il programma, cesellato fino all'ultima parola, se anche venisse approvato, viene messo in un cassetto per poi lasciare che ogni assessore faccia da sé senza un piano organico. Ho sentito che molti consiglieri anziani hanno visto questi punti più volte nel corso delle diverse consigliature e io da cittadina ho visto che non c'è stato un cambiamento in questa città per alcuni aspetti. Un programma tra l'altro che nulla dice però rispetto ad uno dei progetti più importanti per la nostra città degli ultimi decenni, il progetto PRU del PRU di Via Alto Adige, il centro commerciale Benco, che avrà ricadute pesantissime dal punto di vista sociale, economico, ambientale sulla nostra città nei prossimi anni. Ricordo che i consiglieri Gallo, Molina e Margheri hanno proposto di entrare in giunta, fare ostruzionismo su questa delibera e poi uscire dalla giunta in caso la delibera passi. Vedremo se manterranno la loro coerenza. Il programma che il Sindaco ci ha presentato cita più volte il commercio di vicinato. Addirittura si parla del contrasto alla nascita incontrollata di nuovi centri commerciali. Il Kaufhaus Benco risponde a questi obiettivi? La creazione di mille posti di lavoro previsti dal centro commerciale sarà compensata dalla perdita di ben 2.000 posti, quindi il doppio nei negozi di vicinato, nei quartieri e in centro. Sulla riduzione fiscale, chiesta a gran voce dall'SVP, nulla si dice in merito al reperimento delle risorse. Tagliamo l'IRPEF, abbassiamo l'IMI anche sulle seconde case e come copriamo i servizi pubblici? Nulla si dice. Sulla sicurezza, Sindaco, ho visto che mancano i fischietti. Non sono previsti i fischietti. Del resto troviamo da una parte i vigili vigilantes e le videocamere e dall'altra i progetti di sviluppo di comunità nei quartieri. Un colpo al cerchio e uno alla botte. Sull'integrazione dei cittadini di origine straniera prevale l'ottica del controllo, travestito da assistenzialismo e monitoraggio. Non si parla di diversity management, non si parla di riconoscimento delle culture diverse, non si parla di azioni atte svolte a riconoscimento della piena cittadinanza di queste persone. Il mio ruolo da consigliera di opposizione nella sinistra ambientalista sarà quello di controllo dell'intera gestione amministrativa del Comune e lavorerò e mi impegnerò insieme al mio collega Tobe, i sei consiglieri di circoscrizione, con il gruppo dei Verdi Bolzanini e con molti attivisti per i miei temi. L'inclusione e la partecipazione sociale, l'intercultura ai giovani e l'interesse pubblico per l'ambiente, lo sviluppo urbano e la vivibilità della nostra città. Lavorerò con senso del dovere e responsabilità, che per me significa innanzitutto responsabilità verso i cittadini che mi hanno votato e che rappresento. Responsabilità non significa un'armata branca leone con una maggioranza minima, raffazzonata, in cui non si ha il coraggio di dire apertamente cosa si intende fare sui grandi progetti e le necessità della nostra città. Una cosa però certamente il Sindaco l'ha raggiunta, trasportare il modello renziano di fare politica nella nostra città. La sua svolta a destra riduce la sinistra governativa a stampella debole. Durante la trattativa non c'è mai stata una reale intenzione da parte del Sindaco di modificare il suo programma di centrodestra, ma solo di accontentare chi lo appoggiava dando assessorati, vicepresidenze e posti di potere. Questo è solo l'inizio. Buon voto. Il mancato voto a favore della giunta di ieri con la consigliera Pitarelli che ha votato no. Questo mi ha fatto riflettere in maniera molto approfondita sul fatto di sostenere il progetto del Plu di Vialto Adige, cosa di cui ero convinto, sono stato convinto fino a ieri, ma il fatto di ieri mi ha portato a fare questa approfondita riflessione per cui sto sostanzialmente cambiando opinione rispetto a questo voto. L'epilogo della serata di ieri ha dimostrato come l'affare Benco sia davvero determinante per il futuro della nostra città. L'attacco alle istituzioni democratiche effettuato dalla signora Pitarelli e dalla lobby dietro a lei è inaccettabile. Così come è inaccettabile, l'ho già detto ieri, che il progetto Benco non venisse citato nel programma presentato ieri dal sindaco. Questo è quello che succede quando la politica non parla chiaramente. Il fatto che oggi Spagnoli abbia cambiato idea, ed è lui che ha cambiato idea, il consigliere Pancheri, e abbia capito la gravità delle conseguenze sulla nostra città di questo intervento, è garanzia per noi per appoggiare tecnicamente questa maggioranza e permettere al Consiglio di votare al più presto la delibera Benco in Consiglio Comunale, di esprimere così democraticamente la sua volontà e di riaffermare la sua supremazia sugli interessi privatistici e speculativi.